Porto Torres domani e lunedì dovrà scegliere il sindaco. Dalle elezioni del 25 e 26 ottobre si era arrivati a un testa a testa tra Alessandro Pantaleo per il centro-destra e Massimo Mulas per il centro-sinistra che andranno al ballottaggio. A complicare le operazioni di voto il nuovo DPCM del 3 novembre che prevede il coprifuoco alle 22, mentre le urne resteranno aperte fino alle 23. Per questo motivo la prefettura di Sassari ha disposto un'autorizzazione solo per la giornata di domani per chi si recca a votare dopo le 22. Sarà però necessario compilare un'autocertificazione. La decisione è stata assunta nel corso di un incontro in videoconferenza che si è svolta tra il prefetto Maria Luisa D'Alessandro, il commissario della provincia Pietro Fois, il sindaco di Sassari Nanni Campus e i vertici delle forze dell'ordine. A Porto Torres il centro-destra del candidato Pantaleo aveva ottenuto il 39,1% dei voti validi, mentre il suo avversario si era fermato al 26%. Domenica e lunedì si avrà il nuovo primo cittadino. Nel frattempo il centro-sinistra di Massimo Mulas ha ottenuto l'appoggio dell'ex candidato sindaco Franco Satta, mentre non ci sono state dichiarazioni sulla posizione dei 5 Stelle.